Nessuna divergenza programmatica, nessun immobilismo nella città. La segretaria del PD risponde in queste ore alle ultime esternazioni dell'Udc per bocca del consigliere Barrano, invitando il partito della vela a volare alto, oltre che a manifestare chiarezza. Per il PD non ci vuole molto, cominciando intanto a dare pieno sostegno al sindaco Nicosia, poi sarebbe necessario condividere le azioni della maggioranza, dando il proprio fattivo contributo e ancora è indispensabile che i consigliere dell'Udc siano più presenti e produttivi in consiglio comunale. Ma dove punta l'indice, il PD pariene sulla questione delle cosiddette divergenze programmatiche. Il PD chiede quindi allo stesso Barrano di motivarle, anche perché finora si è parlato solo di deleghe assessoriali e incarichi di sottogoverno. Richieste legittime per carità, rileva la segreta del PD, ma non si dica però che esistono divergenze programmatiche in quanto non risultano assolutamente. Infine, l'ennesimo invito, col PD che chiede alle forze politiche, un nuovo spirito di condivisione per contribuire alla crescita di una città in un periodo di gravissima crisi. Grazie. 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 Grazie.